Per un certo verso si può trarre un sospiro di sollievo sentendo che l'episodio non è stato un episodio di xenofobia. Non è assimilabile in questo senso, almeno da quello che mi è perso di capire, non è assimilabile invece all'assassinio di Don Andrea Santoro il 5 febbraio del 2006. E là è stato invece un fatto di un uomo che era stato molto aiutato da lui, a cui lui effettivamente dava anche lavoro, era tra le persone più familiari alla sua casa. Quindi non c'è da stupire che gli abbia aperto la porta. Ecco evidentemente a un certo punto, per non essere difficile capire per quali circostanze e motivi, a quest'uomo gli si è schizzata la testa e ha avuto un colpo di matto. E ha ucciso quello che era il suo benefattore. Mi sento in coscienza nella condizione di dover ringraziare il Signore per la grandezza di quest'uomo. Domandare al Signore, facci conoscere le tue vie, perché era un uomo di pace, di dialogo. Ecco, allo stesso tempo pregare anche per l'uccisore. Questo era un uomo che anche nell'ultima sua conversazione che ha tenuto nella città di Este, mercoledì 26 maggio alla sera, è stata una lezione su che cosa significhi essere uomini di pace da cristiani in Turchia. Ecco, tratteggiando la pace nelle sue dimensioni di giustizia, di tolleranza, di dialogo. Chiarendo davvero che cosa significa dialogo interreligioso, che arriva fin dove può arrivare, e soprattutto dialogo interculturale. Perché si possa far convivere l'unità nelle differenze, bisogna esercitarsi al dialogo. Ma come può esserci dialogo se non si coinvolge il cuore? Sono parole del Vescovo Luigi. Grazie a tutti.